Il Green Pass non ha frenato l'entusiasmo dei partecipanti all'FVG Pride tra Gorizia e Nova Gorizia, i primi trasfrontalieri in Europa. Sono state oltre 3.000 le persone che hanno preso parte al corteo di ieri, un corteo festoso, rispettoso e colorato che ha attraversato le vie di Gorizia per poi oltrepassare il confine di via San Gabriele e terminare in piazza Transalpina, dove si sono svolti i discorsi conclusivi nel rispetto delle norme di sicurezza. Nel momento che ai presenti è stato richiesto di esibire il Green Pass appunto o un tampone negativo delle ultime 48 ore. Molte le associazioni, tanti giovanissimi, numerose le famiglie partecipanti alla manifestazione, unanime nella lotta contro le discriminazioni e a tutela dei diritti. A conferma della volontà di inclusione di tutti, gli interventi bilingui sono stati tradotti da interpreti della lingua dei segni, sia in italiano che sloveno. Hanno preso parte al corteo e sono intervenuti poi sul palco anche il deputato Alessandro Zann e la senatrice Alessandra Maiorino. Pesanti le critiche nei confronti del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che ha negato il patrocinio del comune, mentre il primo cittadino di Nova Gorizia, Clemen Miklavic, ha espresso il proprio appoggio anche con un video. Era in verità, la nostra previsione iniziale era quella, perciò siamo contenti che l'obbligo del Green Pass non abbia abbassato la partecipazione. Siamo molto soddisfatti e molto contenti. Contrariamente al mancato patrocinio della città di Gorizia, siamo molto molto lieti di aver avuto il supporto di tanti comuni comunque della ex provincia di Gorizia, perciò ringraziamo molto il loro supporto. A chi non abbia ancora capito il messaggio, adesso comincieremo con i discorsi, perciò si siede ad ascoltarli e forse lo capirà alto e chiaro.